L'appuntamento è domenica 30 ottobre alle 21 al Teatro Sperimentale, sarà lo spettacolo conclusivo del 75esimo Festival GAD di Pesaro. Il nostro è uno spettacolo fuori concorso, appositamente ideato da Orchestra Olimpia per il centenario dalla nascita di Renata Tebaldi. Noi la racconteremo attraverso le persone che l'hanno accompagnata nella sua vita, da sua mamma alla sua fedelissima governante Tina Viganò a Elsa Maxwell e i registi, i direttori d'orchestra che l'hanno incontrata, raccontando dall'infanzia fino a, insomma, non fino alla fine, ma fino a un epilogo che racconta di una donna che ha vissuto una vita moderna in un'epoca non odierna. Avremo anche la presenza di una cantante che presterà la sua voce e il ritorno di Valentina Mastrangela Pesaro che debutò nel 2013 con Il Viaggio a Reims. Quindi teatro, musica e canto. Orchestra Olimpia sarà la colonna sonora di questo spettacolo, diretta come sempre dalla nostra direttrice stabile e cofondatrice Francesca Perrotta. La protagonista è Clio Gaudenzi, che è anche autrice dei testi e della regia, insieme ad Alfredo Corno. Il festival non ha voluto dimenticare, anzi ha voluto ricordare in un modo direi molto importante, molto significativo, questa grande cantante che assieme alla Callas ha segnato il panorama della vita culturale della lirica italiana e non solo. È un evento significativo perché lo facciamo anche in collaborazione con l'orchestro Olimpia. È una cosa diversa in cui si unisce sia la prosa che la musica, proprio a conclusione di un festival che ormai siamo arrivati quasi alla fine. Voglio battezzare come un festival molto importante. 75 anni del festival, anche con questo evento collaterale molto significativo, ha dato lustro alla celebrazione di queste nozze di diamante delle GAD e del teatro con la città di Pesaro, da cui è nato nel 1948.